La manifestazione, la 62esima edizione, è riuscita ancora meglio. Credo che ci stiamo perfezionando sempre di più. Volevo ringraziare un po' tutti quanti, quelli che hanno collaborato, il mio assessore, i dirigenti, ma tutti quanti, i cartapestai. Veramente stiamo raggiungendo livelli invidiabili nella nostra Italia, oltre alla manifattura dei carri, ma credo un po' nella organizzazione in senso più generale. Con l'involgimento sempre di più, adesso c'è l'interesse anche della vostra TV, insomma anche di altri. Credo che stiamo andando bene, con l'impegno soprattutto del 90% dei finanziamenti del Comune e anche tanti imprenditori che partecipano puntualmente a questa manifestazione.